Benvenuti in questo viaggio attraverso la Francia barocca. Charles Dupin fu violinista, cembalista e compositore, divenne celebre per le sue sei suite. Noi abbiamo scelto di suonare ogni movimento con strumenti diversi, flauto e violino all'unisono oppure cembalo con violino flauto soli. Dupin fa parte di quella generazione di musicisti legati alla struttura classica della suite francese. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.